Nuovissimo Roller Team Zephyro 287 TL Advance, veicolo su meccanica Ford con cambio automatico 165 cavalli, nuovo logo Ford rivisitato, nuovi cerchi in lega, cupolino totalmente rivisto come design esterno, nuove bandelle e nuove grafiche. Troviamo di serie la veranda, il pannello solare, la radio, la retrocamera, gli oscuranti più settati in cabina, garage con una portata di 300 kg molto ampio, docino esterno all'interno del garage di serie, così come lo è anche la presa esterna per il gas. Nuova portacellula, rivista come maniglia e come design interno, quindi interessante la proposta perché integra già la patumiera più anche l'oscurante per quanto riguarda la finestra. Chiusura centralizzata e zanzariera sulla porta. Dinette face to face anteriore, molto interessante, veicolo omologato a quattro posti, con maxioblò sul cupolino di serie e il nuovo quadro strumenti Ford, come vi ho già spiegato. Rivista totalmente anche la cucina, molto più lineare, con due fuochi, lavello e dei comodi cassetti, uno dei quali integrato a scomparsa, che è anche da porta posate. Frigorifero, novità 2025, è un frigorifero a compressore. Layout con bagno e doccia separati, con la portacellula, la porta del bagno che può fare la separazione, dei due ambienti, la doccia è retroilluminata con il suo oblò a soffitto, letti gemelli posteriori che possono essere uniti con il materasso in dotazione per creare tre posti letto. Questo è l'accesso al gavone, quindi novità assoluta anche in questo caso. Il bagno è totalmente rivisitato anche su questo layout, con la possibilità di chiudere e creare direttamente un ambiente molto molto comodo per quanto riguarda la parte doccia. completa l'offerta il letto basculante anteriore, che ovviamente abbassandolo lascia parzialmente la porta aperta. Il veicolo in pronta consegna ovviamente è da me che sono Alessandro Giorgiracamper. Vi aspetto, ciao!